Musica Siamo qui nel museo Ferruccio Lamborghini di Dosso di Sant'Agostino, provincia di Ferrara. Sono il nipote Fabio Lamborghini e responsabile del centro museale dedicato a Ferruccio. In questo museo sono rappresentate tutte le produzioni industriali che lui fece, tutto quello di 40 anni di attività. Partendo dal trattore nel dopoguerra, il Carioca, qui abbiamo il suo primo trattore costruito assolutamente artigianale, il primo vero trattore economico. Abbiamo anche i trattori degli anni 50, degli anni 60, degli anni 70. Abbiamo mille foto esposte dall'archivio di famiglia e abbiamo anche dieci prototipi unici al mondo che si possono vedere solo da noi. Ovviamente tutte le vetture, le supercar famose di Ferruccio Lamborghini, quelle che lui ha fatto, sono qui esposte. Abbiamo le golf car, bruciatori, caldaie, oleodinamica, vini, insomma veramente veramente tutto. Un salto nella storia di Lamborghini assolutamente interessante, incredibile e quindi vi aspetto in questo museo per una visita guidata. Qui siamo davanti al primo trattore costruito da Ferruccio Lamborghini. Lamborghini era figlio di agricoltore per cui dedica all'agricoltura che aveva bisogno di riprendersi questo mezzo. Molto importante in quanto tecnologicamente di alto livello ma a basso costo. La motorizzazione non era italiana, Lamborghini utilizza motori Morris inglesi rimasti in Italia nel dopoguerra, riesce a modificarli e da benzina farli funzionare a petrolio. E con questo trattore ebbe già un successo commerciale importante, tant'è che già alla prima esposizione alla fiera di San Biagio di Cento vendette ben in giornata 11 trattori. All'inizio degli anni 60 Ferruccio Lamborghini, appassionato di supercar, possedeva due Ferrari, modello 250 GT. Non soddisfatto meccanicamente della vettura, apportò una modifica, lo disse a Ferrari, il quale si arrabbiò. Ferrari era già numero uno al mondo delle supercar e disse a Lamborghini che di supercar non ne capiva nulla, che continuasse a fare i trattori visto che li sapeva fare bene. Ferruccio allora disse va bene, adesso ti faccio vedere cosa sono capace di fare io. In soli otto mesi Lamborghini realizza la fabbrica automobili Sant'Agata e nell'ottobre del 63 presenta al mondo la sua prima supercar. E questa signora è la prima creazione di Ferruccio Lamborghini, prototipo unico al mondo, quindi lo potete vedere solo qui da noi, si chiama 350 GTV, motore 3.500, già 12 cilindri, potentissima, sospensioni a ruote indipendenti. Quindi con un design assolutamente futuribile, Lamborghini parte già alla grande nel mondo delle supercar. Ecco, dopo il prototipo che poi entrerà in produzione, il 350 GT dal 64, Lamborghini dà un grosso colpo alla concorrenza presentando nel 66 la Miura. La Miura sarà una macchina straordinaria per quell'epoca, assolutamente innovativa come design, sarà presto decretata la super sportiva più bella del mondo, ma sarà anche innovativa tecnologicamente, la prima avere il motore dietro, posteriore, 12 cilindri, 4.000, la più bassa del mondo su strada, solo 1 metro e 5 centimetri, la prima al mondo arrivare a 300 chilometri all'ora, la più veloce di tutte, ecco perché ha avuto questo successo mondiale. Tutti i potenti, ricchi, famosi, cantanti, attori, principi, seicchi, volevano assolutamente la Miura perché rappresentavano la top car. E la Miura che abbiamo qui al museo è la Miura più importante di tutte le Miure del mondo perché è quella personale di Ferruccio Lamborghini, quella che vale di più, anche questa da considerarsi, pezzo unico. Nel 1991 Tonino Lamborghini, figlio di Ferruccio, inizia la produzione di Golf Car Lamborghini e tra queste Golf Car Tonino Lamborghini realizzerà un prototipo speciale, che è quello alle mie spalle, dedicato al Grande Papa Giovanni Paolo II, caro Uoitila. Quindi dietro di me abbiamo la Golf Car importantissima, che è stata utilizzata dal Grande Papa dal 2000 al 2004. Anche oggi, in città del Vaticano, c'è una Golf Car Lamborghini per Benedetto XVI. Tra i numerosi prototipi, pezzi unici di questo museo, particolarissimo questo arancione della Espada, che nasce nel 1967, motorizzazione 4.000 di cilindrata, 12 cilindri. La particolarità qual'era? L'apertura ad Ali di Gabbiano, è stata la prima quattro posti al mondo che si apriva così. E' quindi qualcosa di veramente speciale, di effetto, ma anche pratico, perché con un'apertura unica si poteva accedere sia davanti che di dietro. Prima abbiamo visto il prototipo di Ferruccio Lamborghini, la sua prima espressione nel campo dei supercar. Adesso vediamo il primo motore di Ferruccio Lamborghini. Non è solo bellissimo a guardarsi, ma già il primo motore di Lamborghini è tecnologicamente superiore alla concorrenza. Perché? Perché il motore di Lamborghini ha quattro alberi a cammi in testa, stiamo parlando del 1963, 12 cilindri, 3.500 di cilindrata, mentre la concorrenza aveva due alberi a cammi in testa. Sei carburatori a doppio corpo, una novità. Il motore più potente prima di Lamborghini era il Ferrari con 270 cavalli. Ebbene, il primo motore di Lamborghini ne sviluppa addirittura 358. Incredibile. Quindi Lamborghini, da ultimo arrivato nel campo delle supercar, è già davanti a tutti tecnologicamente. Nel 1967 Ferruccio Lamborghini aveva un motoscafo personale, un Riva Acquarama, un motoscafo molto prestigioso, e con i motori originali non andava abbastanza veloce per Ferruccio Lamborghini, per cui decise di mettere i suoi motori delle sue automobili, quindi riuscì a marinizzare questi potentissimi motori e mise due motori sul suo proprio motoscafo. Andò veramente molto forte, perché con questo motore Lamborghini batte il record 68 della velocità media nel mondo, record di velocità 3 ore, 6 ore, 24 ore di fondo. Quindi da questo test, da questo motore nato così per gioco, poi si passa invece al vero mondo delle corse con un motore che verrà assolutamente potenziato in assoluto. Da quel primo motore marinizzato di Ferruccio Lamborghini che ebbe tanti successi, arriviamo poi nel proseguo degli anni, alla fine degli anni Ottanta, con il motore offshore classe 1 Lamborghini con una cilindrata di ben 8.200 per 1.000 cavalli e due motori erano montati su queste Formula 1 del mare. In Italia non se n'è parlato, ma questo motore è quello che nella storia della motonatica classe 1 è quello che ha vinto più di tutti, ben 11 volte campioni del mondo. Rimanendo nel mondo legato alle corse, inizia i primi anni 90, la Lamborghini Automobili appunto entra nel mondo della Formula 1, facendone la vettura, si chiamava Lambo Formula 1, primo pilota Nicola Larini e ovviamente facendo il motore. Questo è il motore appunto Lamborghini, 12 cilindri, 3.500 di cilindrata, sui 15.000 giri all'epoca e troviamo un'altra scritta sul motore, anche Chrysler. Che senso ha? La Chrysler era quella che aveva finanziato il progetto Lamborghini in Formula 1. Questo motore velocemente iniziò a dare delle soddisfazioni, tant'è che altri team di Formula 1 utilizzarono e comprarono il motore Lamborghini. La Lola, la Ligier, la Russe, Minardi. Anche il grande pilota, tre volte campione del mondo, Ayrton Senna, intuì la potenzialità di questo motore e lo vuole provare sulla sua McLaren in un test all'Estoril, circuito del Portogallo, nel 1993. Perché la McLaren stava cercando motori e quindi stava provando diverse marche di motori da Formula 1. Bene, con il motore Lamborghini Ayrton Senna batte il record della pista e alla fine dei suoi test era molto soddisfatto di questo motore più degli altri che aveva provato e quindi suggerì alla McLaren di prendere questo motore. Ma la McLaren poi decise per una motorizzazione diversa perché l'altra motorizzazione era gratuita mentre il motore Lamborghini doveva pagarlo. Ma con l'altra motorizzazione furono due anni molto complicati e senza successi per la McLaren, peccato perché noi tutti i Lamborghini siamo convinti che questo motore insieme a Senna avrebbe dato grandi soddisfazioni. Siamo nel 1965. Questo alla mia spalla è il prototipo dell'elicottero Ferruccio Lamborghini. Lamborghini, in cerca di continue sfide con se stesso, voleva anche produrre una fabbrica di elicotteri. ma per poterlo fare era necessario avere la licenza del governo italiano. Il prototipo è particolare in alluminio molto leggero quattro posti con la possibilità di aggiungere un quinto motore sei cilindri anteriore doppio comando cosa rara a quel tempo su un elicottero poterlo guidare sia da destra che da sinistra. In quegli anni purtroppo successe qualcosa di non favorevole per Ferruccio Lamborghini. La Gusto, unica azienda in Italia che produceva elicotteri azienda privata proprio in quel momento era sull'orlo del falimento grandi problemi economici per cui fu salvata dallo Stato attraverso Liri per cui da azienda privata divenne azienda statale ed ecco che a quel punto il governo non diede la licenza a Lamborghini per non crearsi un concorrente. Quindi purtroppo è finita molto presto la storia degli elicotteri di Ferruccio questo prototipo poi ha volato successivamente per 15 anni e nel 1995 l'inaugurazione del museo abbiamo deciso di esporlo per far vedere quanto era bravo e eclettico questo industriale centese che ha esportato un'ottima Italia nel mondo. Trovo in questo momento sull'ennesimo pezzo unico di questo museo questa è la Topolino 1000 Miglia modificata da Ferruccio Lamborghini nel 1947 per la 1000 Miglia del 1948 quindi su base Topolino Fiat Topolino Lamborghini ne modifica la carrozzeria fa questa barchetta tipo corsa ma ovviamente modifica il motore lo potenzia e quindi dai generici 70 km all'ora della normale Topolino questa macchina diventerà velocissima raggiungerà i 160 km all'ora Lamborghini in questa 1000 Miglia purtroppo non riuscirà a portarla a termine a un certo punto era primo di categoria con il suo numero 427 che era il riferimento all'ora di partenza perché ebbe un incidente nelle Marche di notte individuarono male una curva le strade dell'epoca erano quelle che erano i fanali non erano certo potenti e numerosi come quelle di oggi e insomma sfondarono la porta di un'osteria che per fortuna era chiusa grandi danni alla macchina loro non si fecero male e lì terminò questa 1000 Miglia di Ferruccio Lamborghini questo mezzo poi è stato ricostruito ripristinato ed eccolo qui a disposizione dei visitatori quindi pezzo molto importante che richiama anche la passione di Ferruccio Lamborghini per la velocità per le vetture Nel salutarvi chiudo dandovi un'informazione per coloro che volessero venire a visitare questa eccellenza museale italiana il museo è visitabile tutti i giorni della settimana festivi compresi nell'orario desiderato dai visitatori è importante però una prenotazione via telefono o via e-mail e troverete poi i dati in sovrimpressione grazie arrivederci grazie a tutti 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 grazie a tutti